Perché sono arrabbiata? Sono arrabbiata perché in primis viene la salute. Un'antenna alta 30 metri nel cuore di Montesilvano amplificherà la rete della francese Iliad e costerà 10.000 euro. Non esistono ancora studi scientifici che dimostrino se le telecomunicazioni rappresentino un pericolo per la salute e ovviamente non esistono prove nemmeno nel senso opposto. I residenti, nel dubbio, sono tornati di nuovo in strada per dire no all'antenna. No! 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 Siamo scesi nuovamente per una protesta contro l'installazione di questa antenna per un semplice principio che non ci sono a nostro avviso le condizioni per installare questa nuova stazione per il rispetto della salute, del patrimonio anche immobiliare quindi di valore economico. Secondo i residenti il progetto non sarebbe conforme nemmeno alla legislazione che regola questo tipo di infrastrutture. Se noi leggiamo il decreto Gasparri che regolamenta l'installazione ovviamente i vincoli sono alcuni quindi non bisogna installarli in prossimità di scuole, qui a meno di 200 metri ne abbiamo due una scuola elementare e una scuola primaria e un altro vincolo tramite il ministero delle telecomunicazioni ha espressamente scritto che l'installazione non può essere fatta a meno di 70 metri dalle abitazioni. Le preoccupazioni sono rivolte innanzitutto al dubbio salute ma anche al mercato immobiliare l'antenna infatti potrebbe svalutare le abitazioni della zona. Io non comprerei una casa vicina all'antenna e quindi penso che anche altre persone la pensano come me. La preoccupazione maggiore è rivolta ai nostri figli perché è risaputo che comunque queste antenne provocano delle leucemie quindi comunque dei problemi molto importanti. Adesso la palla è nelle mani del comune, le misure adottate finora non convincono i residenti. Quindi quello che noi chiediamo al sindaco è di tutelare i nostri diritti e individuare un nuovo sito.